Una sessantina di profughi ha protestato questa mattina in via Catalani a Vicenza. I richiedenti asilo sono scesi in strada lamentando una situazione insostenibile, chiedendo più cibo e alloggi migliori. Ancora violenza a Campomarzo, alcuni residenti filmano nell'esima rissa tra stranieri nel polmone verde vicino alla stazione. Due fazioni in lotta che si affrontano a suon di calci e pugni, ma compaiono anche catene e pezzi di ferro. Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri, doveva essere allontanato da casa. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti due fucili illegali. Continua a far discutere il caso malo, dove i bimbi sono stati multati mentre giocavano a pallone. I sindaci di altri comuni invitano a far prevalere il buonsenso. L'onorevole Piddi Sbrollini, l'attività fisica, va promossa. Da domani a domenica le iniziative legate alle cilie di Schio. Domani sera la messa con il Descovo. Domenica doppia manifestazione, controlli serrati.